Cancelli della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea chiusi in faccia l'amministrazione a Corinti a causa di debiti contratti anni prima. E così la priorità del sindaco e dell'assessore all'ambiente Daniele Ialacqua nelle scorse ore è diventata quella di evitare l'emergenza della mancata raccolta della spazzatura, obiettivo raggiunto nella tarda serata di ieri. I rifiuti verranno scaricati a Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania. Ma abbiamo subito agito velocemente per non mettere in ginocchio l'intera città e perciò abbiamo fatto di tutto per avere autorizzazioni a poter mandare in discarica fuori dalla provincia di Messina e perciò è stata dura però velocemente abbiamo risolto il problema perché abbiamo chiesto alla regione, al presidente Crocetta e a tutti gli altri organi competenti e devo dire che molto velocemente, non ce l'aspettavamo ma è stato così, eravamo molto determinati perché non ce lo meritiamo, non abbiamo fatto nessun passo falso. Noi sulla questione dei rifiuti abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare come lo stiamo facendo su tutto il resto della nostra azione perché noi abbiamo ereditato un disastro dalle passate amministrazioni, un disastro. Ma svuotare i cassonetti in maniera indifferenziata non può essere l'obiettivo finale di una giunta comunale che ha promesso ben altro. Il sindaco a Corinti annuncia che a breve la raccolta differenziata sarà una realtà anche a Messina ma sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini. Non c'è nessun alibi per nessuno, perciò vi chiedo assolutamente a tutti di dare una mano escluso a nessuno. Fate la raccolta differenziata a cominciare dai bambini a cambiare completamente una mentalità perché porteremo meno rifiuti in discarica, sarà un vantaggio per tutti, non inquiniamo e pageremo di meno.